Io francamente ci tengo a dire una cosa Il rap so benissimo che non è una cosa oggettiva Dove se Cristiano Ronaldo segna 39 gol E Messi ne segna 35 più forte Ronaldo E il pallone d'oro lo vince Ronaldo Giustissimo Ci ha fatto anche una rima Marrakesh sopra E in un'altra vita vorrei essere uno sportivo Lo penso anch'io Io non ho la pretesa di essere il tuo rapper preferito O il rapper preferito della persona che sta guardando questa cosa Io con quella frase volevo soltanto dire Che il mio percorso in tre anni di carriera in Italia È una cosa che non ha mai fatto nessuno E questo è innegabile Certo E il mio percorso per quanto riguarda il salto di qualità che ho fatto I numeri che ho fatto I concerti Quello che ho rappresentato Le scelte che ho fatto L'innovazione tecnica che ho portato a questa roba È un discorso da numero uno È un discorso che non ha mai fatto nessuno in Italia come me Quindi io sono assolutamente padrone quando dico questa cosa Senza la presa di essere il rapper preferito di nessuno